Il commercio internazionale è lo scambio di beni e servizi tra paesi diversi. Ha un impatto significativo sull'economia di un paese e sul benessere dei suoi cittadini. Le implicazioni economiche del commercio internazionale possono essere suddivise in tre categorie principali. Vantaggi comparativi, effetti sulla produttività e impatto sulla distribuzione del reddito. Uno dei principali vantaggi del commercio internazionale è l'opportunità di sfruttare i vantaggi comparativi. Ogni paese ha risorse e abilità produttive diverse, il che significa che potrebbe essere più efficiente produrre determinati beni o servizi rispetto ad altri paesi. Ad esempio, un paese con una vasta estensione di terreni agricoli potrebbe essere più efficiente nel produrre prodotti agricoli, mentre un paese con una forte industria manifatturiera potrebbe essere più efficiente nel produrre beni manifatturieri. Attraverso il commercio internazionale, i paesi possono specializzarsi nella produzione dei beni in cui sono più efficienti e acquistare i beni in cui sono meno efficienti da altri paesi. Ciò porta a una maggiore efficienza economica e a una maggiore disponibilità di beni e servizi per i consumatori. Il commercio internazionale può anche avere un impatto positivo sulla produttività economica. L'accesso a nuovi mercati internazionali può incoraggiare le imprese a migliorare la qualità dei loro prodotti e ad aumentare l'efficienza della loro produzione per rimanere competitivi. La competizione internazionale può spingere le imprese a innovare e ad adottare nuove tecnologie, il che può portare a un aumento della produttività economica complessiva. Tuttavia, il commercio internazionale può anche avere implicazioni negative sulla distribuzione del reddito. Alcuni settori dell'economia di un paese potrebbero essere danneggiati dalla concorrenza straniera e potrebbero sperimentare una riduzione dell'occupazione e dei salari. Ad esempio, un settore manifatturiero locale potrebbe essere penalizzato dalla concorrenza di prodotti manifatturieri più economici provenienti da paesi a basso costo di produzione. Ciò può causare una riduzione dell'occupazione nel settore manifatturiero e un aumento della disoccupazione. Allo stesso tempo, i settori che beneficiano della concorrenza estera possono sperimentare un aumento dell'occupazione e dei salari. Per mitigare gli effetti negativi sulla distribuzione del reddito, molti paesi adottano politiche commerciali e politiche di protezione per proteggere le industrie locali. Queste politiche possono includere tariffe o dazzi sulle importazioni, quote di importazione o sussidi alle industrie locali. Tuttavia, tali politiche possono anche limitare gli effetti positivi del commercio internazionale, come l'accesso a una maggiore varietà di beni e servizi a prezzi più bassi. In generale, il commercio internazionale offre numerosi vantaggi economici, come l'efficienza e l'aumento della produttività. Tuttavia, le sue implicazioni sulla distribuzione del reddito possono creare sfide per i governi e richiedere politiche di protezione e intervento per mitigare gli eventuali effetti negativi.